Bel derby quello andato in scena tra GRM Club Arizzo e Monnalisa Savinese. Una partita che si rivela subito piena di difficoltà per la formazione aretina che scende in campo con Gialli, Scortecci, Maggini, Salvi, insieme a Mattioli e Gentile Centrali e Amatucci Libero. La Monnalisa Savinese parte bene nel primo set, agguerrita e compatta, conquista il primo parziale 25-21. La reazione degli aretini non si fa attendere. Grazie ai colpi di Scortecci e Gentile, la GRM Club Arizzo conquista il secondo set col punteggio di 25-22. Un secondo set reso specialissimo per il debutto del giovane alzatore Tommaso Papini, classe 2001, nuovo talento dell'Accademia di Pallavolo del Club Arizzo. Nel terzo set gli aretini sembrano inarrestabili, conquistano con forza anche questo parziale con uno stacco netto dalla Monnalisa Savinese. Il terzo set si chiude 25-17 per la formazione cittadina. Quando sembra andare tutto per il verso giusto, però complice un calo di tensione e le efficaci schiacciate degli avversari, la formazione Savinese torna in vantaggio e porta Arizzo al tie-break. Le due squadre lottano punto su punto fino allo strappo finale della Monnalisa, che porta a casa la vittoria di questo derby e due punti preziosi per la classifica. L'Arezzo non ha nessuna sindrome. L'Arezzo ha allestito la squadra a metà agosto per mantenere la categoria. Abbiamo 15 punti, penso che la manterremo, quindi non abbiamo nessuna sindrome. Deve sempre considerare che ci sono gli avversari. Se ti dovessi dire, il rammarico è solo sulla partita dell'Arezzo dove non abbiamo fatto nessun tipo di prestazione positiva. Stasera con Cortona l'abbiamo fatto, ma ci sono dei fronti agli avversari che non è che vengono a fare le vittime sacrificali. Quindi se non hai l'intelligenza e la capacità di chiudere le partite, quando sei davanti, è anche giusto nello sport che vincono gli avversari e è giusto che abbia vinto Montezan Savino che stasera ha fatto una partita d'altissimo livello. Quindi non c'è nessuna sindrome, ci sono solo i meriti degli avversari da valutare insieme ai meriti della squadra che è avanti e non chiude. Tutto qua. Sicuramente noi stasera abbiamo messo in campo le armi che abbiamo e che potevamo. Abbiamo giocato di collettivo, abbiamo giocato di squadra, abbiamo giocato con atteggiamento eccezionale perché sapevamo che avevamo di fronte una squadra sicuramente da valori tecnici e atletici più importante dei nostri che sicuramente ambirà a un altro campionato rispetto al nostro che è di sacrificio e ovviamente questa vittoria non ci deve far perdere d'occhio un po' quali sono i nostri obiettivi. Noi siamo chiamati in questo campionato a ottenere la salvezza con le unghie e con i denti.